Comentiamo la partita a Casette Verdini-Montemilione-Pollenza con mister Marinelli. Mister, ora la classifica è veramente molto positiva. Sì, oggi abbiamo raggiunto matematicamente i play-off, quindi una bella soddisfazione che era l'obiettivo di inizio stagione. Adesso c'è un nuovo obiettivo per queste ultime tre partite, cercare la posizione migliore per poi poterli disputare possibilmente in casa. È stata una partita dura, difficile, in questo momento del campionato le partite sono sporche. Noi abbiamo pigiato molto sull'acceleratore per raggiungere una buona posizione classifica. Adesso, nell'ultimo mese, abbiamo un po' rifiadato, abbiamo fatto un po' di turnover. Ragazzi sono eccezionali, danno sempre il massimo. Oggi abbiamo fatto non benissimo dal punto di vista del gioco, però ce l'abbiamo messa veramente tutta. Sì, infatti abbiamo visto che parte sempre l'area del derby, ma ci tenevano a vincere questa partita i ragazzi fino al 97-98, hanno dato tutto? Sì, sì, hanno dato tutto. Poi chiaramente qualcuno un po' in condizione approssimativa, qualcuno rientra l'infortunio, però hanno lasciato l'anima in campo e hanno lottato su tutte le palle. Alla fine, secondo me, il punteggio è meritato.